Per la Juventus potrebbe arrivare una nuova penalizzazione dopo la restituzione dei 15 punti, restituzione provvisoria in seguito a quella sentenza del collegio di garanzia del Coni. Tuttavia la Corte federale d'appello della FGC dovrà andare a considerare di nuovo la posizione di diversi dirigenti sportivi e l'entità della sensione da eventualmente dare proprio alla Juve, ossia al club bianconero per eccellenza. E' questo proprio punto che il 20 aprile 2023 ha appurato il collegio di garanzia a rinviare alla Corte finale e federale d'appello la valutazione su un caso relativo alle cosiddette plus valenze. Insomma arriverà una penalizzazione, arriverà dunque un'ipotesi 1009, la decisione arriverà intro fine anno, intro fine 2023. Va bene? Intanto però vi informo che il Napoli vince e ha vinto lo scudetto perché il Napoli in questo campione di Serie A ha fatto veramente grandi cose, di conseguenza tante vittorie e quindi poche sconfitte. Quindi la Serie A o meglio lo scudetto per lei. Iscrivetevi al canale di narrato italiano e commentate. Un caro saluto a voi. A prossimo video.